C'è stato un ascolto di quello che non sono le proposte della Lega o del centro-destra, ma il grido d'aiuto che arriva dall'Italia, perché segnalare che il sito dell'Inps è in tilt, che ci sono milioni di lavoratori nell'incertezza non significa alimentare le tensioni, significa segnalare un problema che c'è e aiutare a risolverlo. Quindi abbiamo riproposto, sperando questa volta di avere attenzione concreta, i problemi di adesso che partono, ha dalle mascherine, ci sono ancora necessità di strumenti di protezione, mascherine, bombole d'ossigeno in tutta Italia, quindi ci aspettiamo che lo Stato assolva il suo dovere e garantisca la salute e la sicurezza di medici e cittadini perché ad oggi così non è, soprattutto nelle case di riposo, abbiamo sottolineato questa emergenza, il problema dei mutui, molte rate non sono sospese e le banche vanno all'incasso, il problema degli affitti che non sono coperti e garantiti e poi leggevo che qualcuno dice che è l'opposizione che si lamenta e soffia sul fuoco, se non ci sono certezze sull'erogazione della cassa integrazione, certezze per le partite IVA, per i commercianti, per i bonus per le famiglie e se il sito dell'Inf St. Hilt era prevedibile che migliaia di italiani oggi andassero sul sito dell'Inf St. Hilt perché molti non hanno una lira di stipendio e la seconda potenza industriale d'Europa immaginiamo debba essere pronta a fronteggiare queste emergenze. Detto questo ci si è chiesto un aiuto, un contributo, ci siamo come opposizioni al completo, vogliamo collaborare, vogliamo risolvere, vogliamo aiutare, vogliamo suggerire, sicuramente non possiamo fare da comparse che assistono alle scelte di altri, quindi vediamo se c'è questa volontà, noi abbiamo portato non decine, centinaia di proposte per risolvere i problemi di oggi, le aziende hanno bisogno di soldi oggi per non licenziare, perché non pensiamo un'Italia fondata sull'assistenza, sul precariato, sulla povertà e sulla fame in futuro, quindi a. Abbattere il virus oggi e ci siamo permessi di dire al Presidente del Consiglio che le circolari del Ministero dell'Interno che parlano di passeggiate condominali non aiutano la soluzione del problema, b. I problemi economici vanno affrontati oggi, ci si è detto vi ascoltiamo, ci sono uno o due decreti in lavorazione, siamo disponibili a scriverli insieme, certo che se il modello fosse stato quello svizzero, un modulo, 500 mila euro, cash subito sul conto corrente ci saremmo risparmiati tanti problemi, però siamo a disposizione per collaborare come stiamo facendo da un mese a questa parte, a volte ascoltati, a volte meno ascoltati. Abbiamo ribadito la nostra disponibilità al governo, come abbiamo dimostrato di saper fare dall'inizio, ci siamo preoccupati di aiutare l'Italia, non di giocare al gioco della maggioranza dell'opposizione, però moltissime delle domande che continuiamo a fare non hanno una risposta, non l'hanno avuta neanche oggi, speriamo che la abbiano nei prossimi giorni, nelle prossime ore perché la nostra disponibilità continua ad esserci, però per esempio abbiamo chiesto quando verrà pagata la cassa integrazione, quando verrà erogato il contributo agli autonomi, noi abbiamo migliaia di italiani che hanno fisicamente il problema di non avere i soldi per fare la spesa e non possiamo restare a guardare e la proposta che nello specifico Fratelli d'Italia ha fatto, come sapete, è quella di 1000 euro subito sul conto corrente con una semplice autocertificazione, come sta accadendo in moltissimi paesi e però su questo ad oggi non c'è una risposta, quindi né viene accolta la proposta di Fratelli d'Italia di dare subito 1000 euro a chi ne fa richiesta presso la propria banca, presso l'ufficio postale, online, come volete, né termini chiari su quando verranno pagati la cassa integrazione e il contributo agli autonomi. Abbiamo chiesto perché in un'Italia nella quale è tutto fermo l'unica cosa che non si riesce a fermare è la burocrazia? Il sito dell'Inps ne è una dimostrazione, ma abbiamo per esempio posto un altro problema, perché non si è pensato di togliere l'obbligo di contrattazione sindacale per chi deve accedere alla cassa integrazione, che è chiaramente un modo per allungare i tempi e anche, devo dirlo, per arricchire ulteriormente i sindacati in un momento nel quale di soldi non è che ce ne siano molti. Abbiamo chiesto quanti soldi pensate di spendere con i vari decreti sui quali si vuole lavorare? Noi pensiamo che meno di 100 miliardi di euro per affrontare questa emergenza non si possano spendere. Abbiamo anche cercato di offrire delle proposte su come trovare quei soldi. Io sono assolutamente convinta che sia un'ottima proposta quella del professor Giulio Tremonti di titoli di Stato a lunghissimo rendimento, senza tasse e con procedure semplificate. Penso che vada esplorata. Abbiamo chiesto come pensate di far ripartire l'economia di questa nazione. Secondo noi la mentalità che deve muovere i vari decreti, i prossimi decreti è libertà. Libertà dai vincoli, libertà dalla burocrazia, libertà anche ovviamente dalle tasse, via tutto quello che limita l'attività degli imprenditori. E non possiamo dare solo il messaggio della cassa integrazione. La cassa integrazione chiaramente serve in questa fase, ma dobbiamo anche immaginare strumenti per ringraziare gli imprenditori che decidono di non mettere la gente in cassa integrazione, altrimenti il decreto diventa a renditi Italia, cura Italia piuttosto che... Queste sono tutte domande che sono anche proposte, che abbiamo formulato a 360 gradi. Oggi le risposte non le abbiamo avute, continuiamo a fare le domande e offrire le nostre proposte. Però una cosa è lavorare come abbiamo fatto finora, noi mandiamo le risposte e voi ci dite se vi piaccio. Altra cosa è scrivere i decreti insieme. La seconda ipotesi, chiaramente, è un'ipotesi che finora non ha funzionato e che magari può funzionare domani. Con grande senso di responsabilità, di concretezza e di serietà abbiamo chiesto al Governo di risolvere le due grandi emergenze. Quella sanitaria, quindi tutela della salute di tutti i cittadini italiani, al nord e al sud. Manca materiale sanitario, mascherine, guanti, camici negli ospedali, tanto del nord quanto del sud. Mancano anche le bombole ad ossigeno. Abbiamo ricordato al Presidente del Consiglio che c'è addirittura un mercato nero delle bombole ad ossigeno vuote. Poi c'è un problema che riguarda la tutela della nostra economia. Ci sarà una ripresa, noi ci affidiamo ai tecnici, agli esperti, agli scienziati. Non tocca alla politica dire quando finisce l'emergenza pandemia. Certamente bisognerà far ripartire il nostro sistema economico, siamo la seconda potenza industriale d'Europa, quindi non possiamo bloccare il nostro sistema produttivo e proprio per questo abbiamo proposto un piano da almeno 100 miliardi di euro. Lo Stato deve fin da subito garantire le banche affinché possano fare prestiti di ponte alle imprese non fra molti giorni, subito, e garantire anche il pagamento della cassa integrazione e tutelare anche altri settori che sono stati dimenticati nel primo decreto. Ne abbiamo citati molti a partire dalle partite IVA, ma anche settori dimenticati. Nel mondo dello sport sono circa 5 milioni di persone che dipendono, sono non professionisti, non parliamo dei grandi atleti, del mondo che lavora attorno a palestre, piscine, impianti sportivi, sono lavoratori. Bene, noi chiediamo che ci sia un aiuto da parte dello Stato, una copertura, una garanzia. Non abbiamo saputo ancora le cifre, ci hanno detto che ci sarà un decreto, ma noi vogliamo sapere a quanto ammonterà questo decreto per garantire. Porremo il problema oggi pomeriggio in aula a Montecitorio. Abbiamo detto rispondeteci fin da oggi pomeriggio in maniera concreta. Siamo disponibili, i nostri parlamentari al Senato saranno già al lavoro da subito, però la concretezza e la disponibilità deve avere una risposta da parte dei nostri interlocutori della maggioranza. Non bastano incontri, seppur cordiali, ma serve vedere quanto vuole la maggioranza far uso delle nostre concrete proposte. Soprattutto il quanto non è ancora molto chiaro. Noi siamo, ripeto, abbiamo presentato tantissime proposte oggi, tantissime idee in tutti i diversi settori. Aspettiamo di avere risposte concrete, soprattutto per quanto riguarda la concretezza. Anche sul tema europeo, abbiamo detto che insistiamo non soltanto con la Banca Centrale Europea, ma anche con la Banca Europea degli investimenti, che può emettere dei titoli da far acquistare alla Banca Centrale Europea per poi realizzare infrastrutture piccole, medie e grandi per far rilanciare il Paese. Quindi noi abbiamo dato tante idee, aspettiamo poi di vedere come la maggioranza vorrà accettare le nostre proposte. Noi qui siamo a lavoro da fra un minuto, i nostri parlamentari cominceranno a lavorare per sedersi al tavolo con le nostre idee. Ci auguriamo che la maggioranza abbia la volontà di collaborare almeno pari alla nostra volontà di difendere l'interesse e la salute dei nostri concittadini italiani. Formale sì, vediamo nella sostanza adesso quali saranno le risposte concrete, perché c'è un decreto per dare copertura dello Stato alle banche per aiutare i lavoratori e imprese, però dobbiamo sapere di quanto è. Un miliardo, 10 miliardi non è la stessa cosa. Noi abbiamo posto dei problemi chiari, cioè senza aiuto alle famiglie che sono in difficoltà, a tutta l'Italia che lavora e a tutta l'Italia che produce, è difficile poter vincere la sfida contro il coronavirus. Grazie, arrivederci. Davide, puoi venire? Sì, grandissimo. Grazie. Grazie. Grazie.